La novità che poi non è una novità perché insomma Giulietta Romeo ormai è a livello mondiale, però quest'anno portiamo al Castello Scaligero di Villafranca in Farsa Tirando, 32 anni di militanza diciamo, una novità assoluta perché abbiamo preso la Giulietta Romeo non di Shakespeare ma di Berto Barbarani. Siccome il festival si intitola Farsa Tirando non potevamo certo fare una tragedia di Shakespeare e quindi abbiamo giocato con questo bellissimo testo di Barbarani sul serio, tra il serio e il facetto. Ecco questa è una novità assoluta. Poi Gotturni, presentiamo un altro spettacolo che è la settimana dopo, che è tanto per cantare, una produzione che abbiamo portato in giro per l'Italia ed è un omaggio a Gabriella Ferri, la romanissima Gabriella Ferri e qui l'attrice Anna Paganini spiegherà meglio di me. Vi aspettiamo perché è uno spettacolo molto bello e io parlo modestamente benissimo romano e sarò accompagnata da Claudio Moro e del ventennale della scomparsa. È un artista veramente straordinario, è un cavallo di razza come diceva qualcuno. Questo sarà il 10 di agosto, però vi ricordo anche che a tutti gli spettacoli alla fine potrete gustare una bicchierata con gli attori. Con gli attori e soprattutto a gratis. Grazie a tutti.